Scala in alluminio, pannelli, luci, arredi aulici in una curiosa commistione con i percorsi di una mostra. Così Palazzo Cisterna ospiterà fino al 31 dicembre la mostra I Mondi di Primo Levi, una strenua chiarezza. Inaugurata a Torino la prima volta nel 2015 a Palazzo Madama, ospitata finora a Carpi, Ferrara, Cuneo, Liegi, Milano, Chivasso, Alquirinale a Roma, e poi a Lisbona negli Stati Uniti, è tornata nella sua città a Torino, voluta dal Centro Internazionale di Studi Primo Levi in una bella e inedita collaborazione con la città metropolitana di Torino. Rappresenta bene l'impegno anche del nostro ente per quello che riguarda la promozione del nostro territorio. Primo Levi è un cittadino, è stato un cittadino, chiedo scusa, un cittadino del nostro territorio e come tale un nostro rappresentante degno di essere presente qui in questo palazzo per raccontare la sua storia e per raccontare ai giovani quello che è successo perché non si deve più ripetere. La mostra ospitata a Palazzo Cisterna dal lunedì al venerdì ad ingresso gratuito vuole soprattutto raggiungere i cittadini e gli studenti. Primo Levi è un grande scrittore, un grande scrittore che è stato capace di raccontare cose difficilmente raccontabili. Raccontare Auschwitz non era e non è facile e lui ha saputo inventare un linguaggio per raccontare quella sua esperienza. Ma a partire da quel primo contributo essenziale che oramai ha una risonanza mondiale ha saputo inventare altri linguaggi per rappresentare altri aspetti della società contemporanea. E credo che ognuno degli sforzi che Primo Levi ha fatto nel corso della sua carriera di scrittore possa offrire al pubblico di oggi contributi molto significativi per pensare in modo autonomo e diverso molti degli aspetti della nostra vita nel mondo contemporaneo. La mostra è stata inaugurata giovedì 10 ottobre a Palazzo Cisterna con tanto pubblico. Al presidente onorario del Centro Internazionale di Studi Primo Levi, Ernesto Ferrero, abbiamo chiesto perché i nostri ragazzi oggi dovrebbero continuare a leggere Primo Levi. Perché Primo Levi non si è occupato di un episodio diabolico, mostruoso, ma isolato e finito, concluso nel 1945. Per tutta la vita si è proprio occupato e preoccupato di questo, far sapere che essendo successo una volta a Auschwitz poteva succedere ancora. E tragicamente questo è esattamente capitato. Ma i suoi libri ci insegnano a capire, a ragionare, a vedere, a fare un uso corretto della memoria. Perché lui diceva che la memoria è uno strumento meraviglioso ma fallace, va continuamente verificata e quello che la memoria ricorda va sottoposto al vaglio della critica storiografica. È una lezione intatta, tanto più in questi nostri tempi drammatici, ma non c'è solo il piacere, il dovere di recepire questo messaggio, perché Levi è anche un straordinario narratore. In tutti questi anni la sua figura è emersa sempre più caramente come uno dei più grandi scrittori del Novecento, non solo italiano, ma non solo europeo, ma direi nemmeno soltanto europeo. Quindi leggerlo è anche un grandissimo piacere. Grazie a tutti.